Ciao da Afsim, entriamo nel caso Mateis De Ligt, il caso De Ligt, perché tra l'altro interessa meno a noi giuventini che agli interisti. Allora, sinceramente, se possiamo dare una mano ai tifosi dell'Inter, noi ci proviamo, cioè non mi tiro indietro. Allora, visto che c'è questo dibattito, visto che c'è quasi un'indignazione che serpeggia tra i tifosi dell'Inter perché De Ligt sta in panchina, proviamo a dare delle risposte. No, a parte gli scherzi, quale indignazione? Semplicemente ci sono degli interisti che seriamente, ma seriamente, stanno sghignazzando perché ha 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 ha, mister 85 milioni, come mai? Ancora in panchina, ma vuoi vedere che forse Defray è più forte, Skriniar è più forte? Ecco, intanto vi do una notizia, cari amici interisti, se veramente Defray è più forte di De Ligt, se veramente Skriniar è più forte di De Ligt, non per questo l'Inter vincerà lo skudetto, cioè Defray e Skriniar possono essere 10, 100, 1000 volte più forti di De Ligt, non è su questo che si basa la vittoria dei trofei, neanche della Champions League, alla quale tra l'altro Defray e Skriniar non partecipano più e co, 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 come mai? Non si sa. Quindi a parte questo, cioè si vince lo skudetto vincendo il maggior numero di partite, cioè facendo il maggior numero di punti, sostanzialmente, e non è dalla forza, dalla bravura dei difensori centrali che dipende questo. C'è una relazione, chiaramente, ma non è diretta, non è una relazione diretta e soprattutto non c'è nessuna relazione con i giudizi che io posso dare, che voi potete dare, che sono soggettivi alla fine, possono tendere all'oggettività ma sono sempre soggettivi. Veniamo al caso De Ligt allora, quindi vi tolgo i dubbi sul motivo per il quale De Ligt non sta giocando, non sta giocando tanto. Allora, Matheus De Ligt è stato titolarissimo all'inizio di questa stagione, subito dopo l'infortunio di Chiellini, cioè alla seconda partita, praticamente, di campionato, perché quelle erano le alternative. Rugani non lo consideriamo proprio perché non sta dando nessun tipo di problema a Sarri per quanto riguarda le rotazioni in difesa. De Miral all'inizio non è stato ritenuto più pronto di De Ligt da parte di Sarri. De Ligt probabilmente era più pronto anche dal punto di vista fisico e quindi è stato lui ad essere il titolare. Complessivamente fin qui, compresa la partita di ieri in cui De Ligt è stato 90 minuti in panchina, Juventus-Cagliari 4-0, De Ligt ha giocato 17 partite, ha collezionato 17 presenze con un gol tra l'altro, in 1454 minuti. Non è tra i più utilizzati in assoluto di questa Juventus, ha perso un po' il treno dei 2000 minuti, che è stato, diciamo, preso soglia varcata per primo da Bonucci, suo compagno di reparto, ma appunto anche di questo dobbiamo parlare. Delle difficoltà di De Ligt poi veniamo alle parole di Sarri, post Juventus-Cagliari 4-0 ieri pomeriggio. E cioè De Ligt è arrivato a 19-20 anni alla Juventus, pagato sì 75 più 10, 85, con un ingaggio molto elevato, 7-8 milioni netti, ma è arrivato in un paese che non conosceva e non era mai stato ginamondo De Ligt, perché al di là delle presenze internazionali aveva sempre giocato soltanto per l'Ajax, soltanto in Olanda. Quindi è arrivato, ha dovuto conoscere un nuovo ambiente, una nuova lingua, ma soprattutto, come Sarri ha precisato più volte, un nuovo modo di giocare a calcio, completamente diverso. Nonostante questo, a parte qualche tentennamento iniziale, faccio l'esempio, Juventus-Napoli 4-3, ma 4-3, cioè nonostante gli errori di De Ligt l'abbiamo vinta la partita, le prestazioni, il rendimento di De Ligt è andato assolutamente in crescita, è stato in crescendo e quante volte abbiamo ammesso, noi persone intellettualmente oneste, mi ci metto vagamente anch'io in questo caso, poi mi ci tolgo a volentieri in altri casi se volete, però è stato facile ammettere che De Ligt abbia fatto delle prestazioni importanti, si è andato in crescita, ripeto, se lo vogliamo ammettere serenamente, soprattutto è riuscito a fare coppia perfetta, quasi perfetta, con Bonucci, e questa era l'altra difficoltà, perché chiaramente Bonucci ti mette a tuo agio, però comunque è un compagno di squadra ignoto fino a quel momento per De Ligt, ed è stata una difficoltà nella difficoltà, cioè riuscire a giocare bene con le proprie caratteristiche, ma riuscire anche a giocare bene con il compagno di reparto, che anche lui non era abituato a De Ligt, Bonucci, e non era abituato a nuovi difensori, perché di recente Bonucci ha sempre giocato negli ultimi anni con Barzagli e o con Chiellini, poche alternative. Comunque è anche andato al Milan, Bonucci voglio dire sicuramente è stato bravissimo, lo abbiamo detto anche questo, Bonucci proprio nel far adattare De Ligt, e nel fare grandi prestazioni pure lui, ma c'è stata dietro anche la bravura di Sarri, Sarri che in conferenza stampa, appunto ieri pomeriggio post Juventus-Cagliari 4-0, ha detto, se voi, ha detto al giornalista, se voi se volete una dichiarazione firmata, te la firmo adesso alla data di oggi, che De Ligt diventerà il difensore più forte del mondo, ha detto Sarri. Ora, Sarri non possiamo certamente accusarlo di juventinismo, credo, perché è il nuovo allenatore della Juventus, ma Juventino non è mai stato, che poi ci sia e c'è un'assonanza di vedute, di prospettiva, di mentalità per certi aspetti, è un altro discorso, ma Sarri fino all'altro ieri era l'allenatore del Napoli, l'allenatore ex Napoli, l'allenatore dell'Empoli, l'allenatore napoletano antisistema, antipalazzo, in corona totale, non solo dai napoletani, ma anche un po' da tutti gli anti-juventini, perché non dimentichiamo il tifo sfegatato che è stato fatto per Sarri anche da parte degli interisti, sperando che fosse il Napoli a sottrarre lo scudetto alla Juventus, e c'era quasi riuscito. Quindi, adesso non potete venirmi a dire che Sarri non capisce niente di pallone. Se Sarri dice che De Ligt diventerà il difensore più forte del mondo, può sbagliare di due o tre posizioni, ma De Ligt, il podio dei difensori più forti del mondo, di qui a qualche anno, lo raggiungerà. E lo raggiungerà, secondo me, anche in termini di pallone d'oro, cioè un podio di pallone d'oro, io ho De Ligt nei prossimi anni, ce lo vedo. Poi vediamo, vediamo. Io non sono certamente Sarri, io, a me potete dire che non capisco niente di pallone, quindi potete prendere tranquillamente con il beneficio dell'inventario quello che vi sto dicendo, ma se ne ha parlato Sarri e ha detto la situazione di De Ligt è molto semplice, è molto semplice. Qui veniamo al mancato utilizzo, alle motivazioni. Si è trovato, come vi dicevo, in una situazione nuova, dover imparare nuova cultura, nuovo ambiente, nuova lingua, nuovo modo di giocare al calcio, lo ha fatto benissimo, poi ha avuto un'infortunio alla spalla che non è inventato, e poi su questo rispondo anche agli Juventini, perché ci sono anche i Juventini che per tirare il mulino dalla propria parte, l'acqua al proprio mulino, scusatemi, e per togliere praticamente terreno di credibilità a Sarri, stanno paventando un complotto, cioè una finzione. Sarri non fa giocare De Ligt chissà per quale ragione, Sarri detesta De Ligt, dopo che l'ha reso titolare lo detesta, va bene, no, assolutamente c'è di vero, cioè ha avuto l'infortunio alla spalla, quando contro il Torino, contro il Torino ha avuto l'infortunio alla spalla, dopo quell'infortunio ha fatto pure gol in quella stessa partita, però poi se l'è un po' trascinato, tant'è che Bayer Leverkusen-Juventus, De Ligt l'ha saltata, e l'ha saltata a quanto risulta proprio per questo infortunio alla spalla. Ha saltato Bayer Leverkusen-Juventus, che veniva dopo Lazio-Juventus, Lazio-Juventus che è stata una partita in cui De Ligt ha giocato 90 minuti, ed è stata l'ultima partita da 90 minuti di De Ligt, poi ha fatto un piccolo ingresso in campo, una partita successiva, e insomma da Bayer Leverkusen-Juventus, De Ligt di partita è compresa Bayer Leverkusen-Juventus, ne ha saltate 4, cioè la Supercoppa ha saltato questa partita contro il Cagliari, ha saltato la partita contro l'Udinese e la partita contro la Sampdoria, se non ricordo male, dovrebbero essere queste qui. Quindi non è più entrato nelle gerarchie di Sarri, cioè ha fatto qualche ingresso in campo così, uno solo, per il resto è stato sempre in panchina, ma ha spiegato Sarri, lui ha avuto anche un problema di condizione fisica, che è di peso dalla spalla, ma anche dagli adduttori. Sarri ha parlato anche di adduttori, e allora se De Ligt ha avuto qualche, non infortunio, ma qualche, diciamo, problema fisico, qualche freno nella sua condizione fisica, nel frattempo ha detto Sarri abbiamo un Demiral che sprizza energia, che è esplosivo, che scalpita per andare in campo, faccio giocare a Demiral. D'altra parte, ha detto Sarri, sempre per chi lo vuole ascoltare, sempre per chi vuole avere onestà intellettuale, interista o Juventino che sia, è anche compito dell'allenatore dare spazio ai giocatori quando stanno molto bene, e proteggerli quando non stanno abbastanza bene. E' inutile che faccia andare in campo uno che non sta benissimo, perché non faccio altro che affossarlo, che fargli fare delle brutte prestazioni, mentre chi sta bene deve giocare. D'altra parte, Sarri è questo, non è il turnover esasperato, non è neanche la formazione titolare esasperata, però lui va per blocchi, va per periodi, non fa una partita la giochi tu, una partita la giochi tu, una partita la gioca l'altro, perché in questo modo gestisce, secondo me, male la rosa. Gestirla bene significa proprio assecondare i momenti di picco dei giocatori, e anche i momenti, diciamo, di avvallamento, quando, come in questo caso, De Ligt non è perfettamente in forma. Poi, se vogliamo parlare di Skriniar e di De Frey, io vi dico serenamente da tifoso juventino che Skriniar e De Frey sono due buoni, buonissimi difensori. I numeri di questa stagione lo raccontano. De Frey probabilmente in questo momento è il giocatore più in forma dei tre, tra De Ligt, lui e Skriniar, per rendimento proprio difensivo. Skriniar continua ad essere un po' troppo irruento, un po' troppo falloso, continua a sbagliare un po' troppo. De Ligt non è riuscito ancora, per le prestazioni che ha offerto, ad arrivare ad un certo livello, per quanto riguarda proprio la contribuzione difensiva. Sono sistemi di gioco diversi, basti pensare che l'Inter gioca con la difesa 3 e la Juventus con la difesa 2, ma hanno anche un approccio completamente diverso, perché l'Inter gioca con il baricentro a ritrato, la Juventus gioca con il baricentro alto, però, anche con tutte queste differenze doverose da sottolineare, io riconosco, io riconosco che De Frey e Skriniar sono dei giocatori importanti, abbastanza forti, che stanno facendo la fortuna dell'Inter, ma non ho bisogno di andare ad affossare le loro prestazioni, il loro rendimento, le loro qualità per tirare acqua al munino della Juventus o per sostenere che la Juve abbia più chance di vincere lo Scudetto, perché non mi interessa, a me lo Scudetto interessa vincerlo, non teorizzare la vittoria dello Scudetto e andare ad argomentare come farcela, cioè, l'importante è vincerlo, come lo si vince, lo vediamo poi, cioè le prestazioni le analizziamo volta per volta e alla fine della Stangione tireremo le somme, anche di chi ha giocato bene e di chi ha giocato male, ma a voi interisti, chiudendo, cosa interessa se Delict gioca o no? Cioè, a me sembra tanto un sintomo di frustrazione questa, perché non dovrebbe interessarvi nulla, siete evidentemente scarsamente sereni come il vostro allenatore che anche quando vince va a sbottare davanti ai microfoni contro i giornalisti, che secondo lui non gli danno abbastanza merito, e questo è chiaramente l'atteggiamento del bimbo dell'asilo al quale hanno tolto il giocattolo, quindi cercate di fare anche un'evoluzione da questo punto di vista, così come Delict sta cercando di evolversi lui, così come tutti dovremmo provare sempre a migliorare, ad andare avanti, ma non sempre ci si riesce e non tutti sono favorevoli a fare questa cosa. Niente, questo era quello che volevo dire, per rassicurare i tifosi interisti preoccupati per le panchine di Delict si fa per dire, ma anche per smentire i tifosi giuventini che hanno tirato in ballo complotti o che hanno paventato cose veramente insostenibili. De Miral sta benissimo, Delict no, e quindi sta giocando De Miral. Punto molto semplice. Grazie per la vostra attenzione, ma ditemi la vostra nei commenti, mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!